E' tutto bene, siamo una squadra completamente nuova, diciamo che le poche rimaste ci stanno dando sicuramente una mano sia sul campo che fuori, stiamo lavorando, stiamo seguendo il mister, crediamo in lui, crediamo in noi, quindi la parola d'ordine è lavoro e niente, mancano ancora due settimane prima dell'inizio del campionato e stiamo cercando di creare un gruppo, abbiamo tutte le caratteristiche per fare bene, sia fuori che dentro dal campo. No, sicuramente il ritiro di questa settimana può farci solo che bene, vivere la quotidianità 24 ore su 24 perché poi al di fuori siamo in campo, in stanza o a tavola, siamo sempre insieme, può farci solo che bene, credo che sia una cosa bella e ce la stiamo vivendo. Io personalmente sto bene, sto lavorando, sto seguendo il consiglio di tutti, del mister, delle giocatrici esperte per crescere e per appunto, è la prima cosa da fare per diventare un gruppo, ascoltarci, ascoltare e lavorare. Grazie. 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 Grazie.